Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su LeonTube Eccoci finalmente con Asphalt Legend Unite per Nintendo Switch Sappiamo già da alcuni amici che il gioco è un pochino peggiorato almeno sotto la giocabilità o perlomeno dovremo abituarci alla nuova giocabilità che sembra essere peggiore, perlomeno per noi, della Switch E partiamo subito con un bel errore di connessione, quindi riproviamo Ovvio che siamo connessi, abbiamo fatto il download adesso Ok, continuano i problemi, proviamo a riavviare totalmente Eccoci qua dopo il riavvio che siamo entrati Quindi abbiamo messo una marcia in più con la nostra prima espansione in assoluto Asphalt Legend Unite, che offre una nuova esperienza multigiocatore abbattendo muri e limitazioni per creare il futuro di Asphalt Se preferisci giocare da solo, non preoccuparti, c'è altro da scoprire In seguimento squadra In arrivo nel multigiocatore Questo è un multigiocatore in cui ci saranno alcuni con le auto della polizia e altri con le auto normali Quindi sarà una sorta di guardie e ladri, diciamo Fuggi dalla squadra a sicurezza o arresti i piloti del comitato in base a chi sei prima che scade il tempo Gioca con i tuoi amici ovunque Questa è una cosa che ci interessa molto Ora puoi gareggiare sempre ovunque con i tuoi amici Se si tratti di gareggiare multigiocatore Ok, sapevamo già tutto di queste cose A vicenda nelle lobby privati Dimentica le limitazioni delle piattaforme E partecipa subito alla gara Quindi avete visto il mio ID sopra Sopra se volete chiedere l'amicizia per fare delle gare in privato Nelle lobby private Vedremo se sarà possibile chiedere l'amicizia Nuove auto in Asphalt Legend Unite Comitato 9 Evento Ribelli Unite Un drive syndicate Una tragedia inaspettata e sospetta Scopri con noi la verità Dietro tutto questo Correndo per le strade Della nostra nuova pista Singapore Guidando la nuova aerodinamica Conixek Gesco Absolute Franky Muniz Per Asphalt Legends Unite Si può gareggiare con Franky Muniz E Ford in questo aggiornamento Non è una cosa che mi interessa particolarmente Ok andiamo avanti Eccoci qua Nel nuovo liato La stagione Legend Unite 2 è iniziata Andiamo a scoprire come ottenere premi incredibili Giocando con il nuovo Pass Unite Ci saranno molti nuovi Pass Andiamoli a vedere Qui molti Se avete piattaforme Da Gioco ad altra piattaforma Avrete già visto tutto Perché qui con la Nintendo Siamo ovviamente Con un mese abbondante di ritardo Allora Per il Pass Già vediamo Sono 22 giorni Non hanno fatto lo sconto Quindi io Proporrei di non comprarlo Avrebbero dovuto regalarcelo Visto che Che siamo indietro Completa le missioni stagionali Per accumulare punti Unite Basta giocare normalmente Gioca in qualsiasi momento In qualsiasi luogo Più giochi Più punti otterrai Ritira fantastici premi Del Pass Unite Per ottenere premi esclusivi E tantissimi vantaggi stagionali Ovviamente Ci faranno Iniziare subito Con il gap Se non prendiamo il Pass Perché L'Auto a due stelle Potrebbe servire Per qualche evento Comunque Il Pass Unite Il Pass generale È un po' simile A quello che c'era prima Auto a due stelle Pezzi di importazione Efici esclusivi Centinaia di gettoni Centinaia quindi Nemmeno migliaia Adesivi esclusivi Pezzi personalizzati Sconto per il prossimo Lotto stagionale Non è per il Pass Ma per il Pass Con Inclusi alcuni livelli Capacità carburante Tutte le auto Più 5 Pieno giornaliero Di biglietti gratis Pacchetti classici Giornalieri Più 2 Bonus punti stagione Più 10% Bonus monede di scambio Più 80% Bonus punti reputazione Più 70% Questo è un po' Il vecchio Pass Scusate Welcome Legend To the second season Of Asphalt Unite Ok Qui scende in pista Al volante di Bolli Dei marchi provenienti Da tutto il mondo Questo dovrebbe essere Un evento speciale Che ora tagliamo Ah ok Ecco qua Il Pass Questo è il Pass Della seconda stagione Abbiamo già perso Quello della prima stagione Avremmo dovuto avere anche Dei pacchetti regalo Ma al momento Non li vedo Non mi sono stati dati Abbiamo la Ford Mustang Ok Nemmeno si legge È talmente piccolo Più subito Il 20% Di punti reputazione Poi la carta Jolly Sotto abbiamo La Porsche Cayman Ah Questo sopra È il Pass Ok Hanno invertito Andiamo a vedere Quanti gettoni ci sono 100 Allora in questa stagione Avremo anche un evento Esclusivo per Nintendo Switch Della Lamborghini Autentica 2,50 4,50 7,50 Beh 1,150 Dovrebbero essere Se non ho contato male Perfetto La carta è la Ford Poi Sotto ne abbiamo 100 Ok Il Pass Diciamo è più o meno simile Poi ci sono le auto Che cambiano Andiamo a prenderlo Vediamo Adesso non lo andiamo Sicuramente a prendere Ora Ecco qua Tutti i Pass Che ci sono Questo qua È il Pass Questi sono i vecchi Due Pass Che c'erano prima Il Pass Unite E il Lotto Erano quelli che c'erano prima Diciamo Sono un po' Gli Bass Dopo ci sono Altri Pass Che però Non vedo Ok Sono qui Alla destra Abbiamo il Lotto Pass Bonus Include benefici Dei Pass Bonus Multiplayer Ed Eventi giornalieri Quindi questo è Un Pass Un Bundle Di Pass Ci sono due Pass Che sono questi qua A destra Il Pass Multiplayer E il Pass Eventi giornalieri Ognuno costa 7 euro Presi in Bundle Si va a risparmiare 2 euro Sarebbero 14 Invece così Sono 12 Questo dura 14 giorni Questo Pass Ragazzi Ma ognuno È speciale Per qualcosa Questo del Multiplayer Ovviamente È specializzato Per gli eventi Multiplayer Con Vedete Pieni di carburante Al giorno Uno in più Il carburante Quindi Le gare Possiamo fare con l'auto 25 euro Più velocemente 25% in più Di punti serie Per gara Quindi possiamo Finire prima I 30.000 punti Diciamo 10% di credit Per gara Multiplayer In più Traguardi extra Con i punti Della serie Ottieni premi Da tutte le leghe raggiunte Quindi ci sono dei premi In più Poi abbiamo Dove è andato Dato sotto Abbiamo il pacchetto Molto interessante Dei giornalieri Ma questo più che Dei giornalieri È un pacchetto Dedicato Alla caccia All'auto Alla key hunt O alla caccia Alla chiave In totale 15 biglietti Per gli eventi giornalieri Due ricariche Di biglietti Gratis al giorno Che poi Non so Se abbiamo Il pass Normale Se sono tre A questo punto Perché di là Ne abbiamo Già uno Così sono due Costo biglietti Caccia all'auto Ridotto Quindi se la caccia All'auto Invece costare Due Perché da qui In avanti Costerà due Ticket Ne costerà Uno I biglietti Tra l'altro Si ricaricano Il 20% Più in fretta Quindi se c'è un'auto Con la caccia all'auto Che vi interessa In questo modo Si fa molto prima Se avete tempo Per giocare Ottieni pacchetti Auto doppi Negli eventi Caccia all'auto Quindi se ci sono Tre pacchetti Come premio Ne andremo A prendere sei Almeno questo È quello Che interpretiamo L'evento bonus Per i I titolari Del pass bonus Eventi giornalieri Quindi ci sarà anche Un evento in più Per prendere Premi in più Quindi diciamo Andando a prendere Tutti i pass Ci sono sempre Dei premi esclusivi 10% Di crediti Anche qui in più Se sono sommati Diciamo Non mi fa scorrere Torniamo qua Volevo scorrere Per vedere Ancora dopo Cosa c'era Ecco che ci siamo 10% Gettoni Nei premi Giocatore singolo Quindi 10% Di gettoni In più Non è male Però 7 euro Allora Prendendo Quindi in bundle Sono Si sparmiano 2 euro Pass bonus Overclock Di 28 giorni Se possiedi Questo pass L'overclock Sarà attivo Per tutte le auto Che lo hanno a disposizione Noi della Switch Non abbiamo mai avuto L'overclock È una sorta Di potenziamento Delle auto Ok Poi abbiamo I classici Pacchetti A euro Qui abbiamo Anche I pacchetti In moneta Diamante Che sembra Sì Per carità Ok Si possono Prendere Anche I gettoni Con questo Questa moneta Di diamante Che non sappiamo Di preciso Ancora Che cos'è Se è la moneta Del drive Syndicate Ok Questi sono I soliti Pacchetti Poi abbiamo Questi pacchetti Qua Andiamoli a Prendere Diciamo Premi speciali Belli Proprio Ok Ce ne sono Ancora Forse Sono questi I famosi Pacchetti Che sarebbero Dovuti arrivare Ci sono Cinque Ecco Qui Se avete Intenzione Di comprare Il pass Non dovete Comprarlo Quasi subito Puoi fare Le missioni Puoi venire Aprire I pacchetti Ok Dal prossimo Sono Sessantacinque I gettoni Come era Prima Qui Andiamo A prenderlo Questi sono I pacchetti Classici Del negozio Che c'erano Ogni Quattro Ore Ora Sono Ancora Ogni Quattro Ore Più Abbiamo Il Collector Stage Questo Allora Ci dovevano Essere Dei premi Che però Io non li ho visti Beh dai Due progettini Li abbiamo trovati Tre Buono Buono Vediamo Quanti ce ne sono Ne abbiamo fatti Due Finora Dovrebbero Essere Una Ventina Forse Ora Li andiamo Tutti A aprire Almeno Un po' Di progetti In più Ce li dà Buono Dai Un po' Macchinoso Anche L'apertura Dei pacchi Ok Buono Abbiamo portato L'achilon Ancora avanti Buono Così facciamo Prima Ci dov'è essere Anche una caccia All'auto Questo lo faremo Più tardi Continuiamo Lo spacchettamento Questi non so se siano i premi che dovevano esserci o se sono Tipo i premi che avremmo dovuto avere fino al E' dall'inizio Quindi da un mese fa Non lo so Allora i premi che avremmo dovuto avere Poi adesso andiamo a guardare Buona la sala Mi fa piacere 45 progetti Dell'Aston Martin DB12 Buono ancora Se escono Finchè escono Achilon e Kiron Va tutto bene La Drago Però Al massimo 10 progetti E 5 pacchetti Della Lotus E 10 progetti E 5 pacchetti Della La serati MC20 GT2 10 progetti E 5 pacchetti Per la Nistan GTR Neon Edition 10 progetti E 5 pacchetti Per il McMarty Spierling E non solo Ci dovevano essere anche dei gettoni Regali I gettoni token I crediti Cosa che per ora Non ho ricevuto Magari il prossimo riavvio Resto qua Continuiamo Lo spacchettamento Buono la Diablo Buono Buono Se desse Tutte queste auto Che non escono Grazie per la Dejir Ah Queste sono tutte Quelle Praticamente Del livello Garage E in base Al livello Garage A cui siamo Arrivati Ci danno E Tot Pacchetti Vedete Che a livello Garage 33 Prima era 32 Poco prima 31 E quindi Anche Ecco Vedete Che anche In base Al garage Cambiano Le auto Sì Perché Il garage Non siamo Più Livello 18 Ma Si arriva Il livello 60 Mi sembra Se non hanno Poi cambiato Ridotto Un po Ok Dovremmo Essere Arrivati Questo costa 95 Gettoni Un pacchetto Di questi Cosa Le mettono a fare Quelle Ma Vabbè Queste auto Ecco qua Ce l'abbiamo fatta Abbiamo terminato Spendiamo Qui ci sono ancora Pacchetti Con Questi famosi Diamanti Che Ovviamente Si potranno Comprare Ma Speriamo Si possono Anche Vincere Sì Anzi Qui Per ora Non sto vedendo Pacchetti A token A classici token Kit Carrosserie Addirittura Pacchetti Oh Eccoli qua I pacchetti A tempo limitato Basta Speed Con tutte Queste auto Abbastanza nuove 8.50 Garantito Ok La frequenza 20% Non sono 3 Ok Lo starway Quindi c'è Lo starway Vale starway È Quello Della Non so Si indovina Della Onix Ok Comunque Dai Ci sono Dei Bei pacchettoni Da andare A prendere Onda Civic Vediamo Ah Vediamo Anche Ok Qui poi Per il pass Vedremo Allora Questo è L'evento Speciale Lo guardiamo In seguito Faremo sempre I video Dedicati Diciamo Caro giocatore Vogliamo ringraziarti Di essere entrato A far parte Della comunità Di asfalt In occasione Del lancio Del gioco Tocca l'icona Avanti Per ritirare Il tuo premio E non dimenticare Rallentare Non è tra le tue opzioni Vai al massimo E aggiungi E agguanta la vittoria Ok Eccoli qua Quindi i progetti Che Diciamo Dovano arrivare Sono 30 Della Nissan 370 Neon Edition 50.000 credit 10 pacchetti Comunque Comunque Niente di particolare Come regalo Poi considerando Che gli altri Hanno usato I codici Che tra l'altro Andiamo a vedere Anche se sono valide Dove hanno avuto Più Più cose Di nome Della switch Quindi c'è ancora Un po' di differenza Buono la Fenir 750 gettoni E basta Questa la sblocco Non mi interessa Adesso se mi serve La sblocco Altrimenti no E' cambiata ovviamente Tutta la grafica Qui abbiamo Anche gli amici Ragazzi Io direi di andare Subito A vedere Non va più su Come si sposta Lassù Allora Qui con le levette Muoviamo Per andare Ai token Negozio X Vediamo un po' X Niente Con la B Ok Y Ah ok Il più dovevo prendere Quindi Y I tuoi amici Richiesta di amicizia Aggiungi amici Giocatori bloccati Ok amici Gruppi Questi sono Tutti Quelli del club Diciamo Quindi Del mio Ah si Il club Piattaforma Ok Gli amici Non Al momento Non ci sono Poi abbiamo I gruppi Dove invitare Le persone Molto carino Questo Ok Qui è per Cambiare il nome Ora Come faccio Andare indietro Non si va Indietro Perfetto Quindi Qui lo andiamo A mettere Ok Sistemato il nome Siamo riusciti Ad uscire Quindi Eccolo qua Il negozio Leggendario Andiamo subito A comprare Non ci sono più I bonus Vabbè Quelli L'avevo già Comprato Oggi Ok La banca Fondo Unite Ragazzi Ottieni Premi Fantastici Semplicemente Giocando Acquista Il fondo Unite Per ottenere Premi Bonus Ogni volta Che il tuo Garage Sale Di livello Ok Questi diamanti Diciamo Hanno un costo Ma i premi Quali sono Sono questi A fiamma 5 milioni 500 Mila Crediti 5 mila Oggettoni 230 Pacchetti Fondo Unite Cosa c'è nei pacchetti Non si sa Anche Quale livello Basta Praticamente Ah ok Livello 1 Questo è il livello Del garage In base al livello Del garage Andiamo a prendere Tutti questi Pacchetti qua Tutti questi Premi qua Ma non sappiamo Cosa c'è nei pacchetti Quindi qui Ipoteticamente 1000 Quanto ci vengono a costare 9 euro Si 9 euro Anzi 10 euro Ok Non c'è l'offerta Vabbè Più ne compri Costa uguale Ok Questi li scorriamo Velocemente Non Vediamo un po' I pacchetti Se c'è scritto qualcosa C'è la I di informazione A beccarla Eccola Ah I pacchetti Micidiali Ragazzi Questi proprio servono Ma andiamo a vedere I livelli più alti Quindi Dovrebbe Fino a livello 20 Ah ok Questo è fino a livello 20 Quindi possiamo andare a acquistare E avere comunque 1180 Gettoni Più tutti questi che andiamo a prendere Qui sono 10 15 150 360 760 760 850 1004 1003 1009 2007 E qualcosa 20 20 20 Ah sì Alla fine si vanno a prendere Non so se sia 5550 Quindi diciamo che potrebbe essere Una buona offerta 10 euro 5550 5550 Gettoni Altri premi in arrivo Intanto questi Io vedete sono a livello 35 E se andassi a prendere Ovviamente Mi auguro Si possono anche vincere Questi Questi gettoni Ora lo vedremo Pian piano Qui siamo nel negozio Del clash Vediamo se sono cambiate le auto Raggiungi 3 stelle Per sbloccare nuovi oggetti Ok Di quell'auto lì Vediamo un po' Le auto sono sempre le stesse Che c'erano prima Va bene E l'ultima pagina Ah beh Quello del costo Dei diamanti Ok Usciamo dal negozio Allora ok Si naviga con Le levette Obiettivi giornalieri Ah eccoli Eccoli qua Ci sono Almeno questi Li avevo già riscossi Stamattina Allora quanti sono Vediamo un po' Quanti sono 1 2 3 4 5 6 7 8 Quindi sono 40 E non sappiamo Quanti sono alla combo Quindi andiamo a giocare Ah no Me l'ha già dato Il negozio leggendario Ottieni reputazione Ora andremo a fare Una gara Si resetta Tra 10 ore Attenzione Quindi a mezzanotte Ipoteticamente Anzi tra 11 ore Quindi alle 2 Ok Era come era prima Le sfide Eccole qua Non c'è Niente di nuovo Gli sponsor Ok Ancora attivo Quindi quello che era attivo Prima Le missioni stagione Eccole qua Sbloccate Ma senza passa Sarà difficile Andarla Cioè no Si possono fare Sì vero Queste magari Le guardiamo con calma Adesso Collezionista Livello 1 Garage Livello 35 Questo è il mio garage Ragazzi Che è rimasto Più o meno uguale Cambia Ovviamente Il layout Un po' La grafica Il profilo È posto Ok Qui ci sono I messaggi Ok Si vede qui Un po' Del club La reputazione Il livello garage Anche la piattaforma La switch L'ID giocatore Con la U Ci sono due ID giocatori Questo è cambiato Ok Entra nel club Modifichere azione Cambia nome Inizia una gara Della serie mondiale Per entrare in una lega Ok Il multiplayer Quindi sarebbe Quello là Ok Per cambiare Le emot Novità 16 agosto Asphalt Series Ferrari HP E Sport Partecipa Iscriviti Ok In inglese Però qui Dovremmo Gargiare contro tutti Guardate cosa si può vincere Il casco Gli occhiali Cappellini Premi Ferrari 15 agosto 12 agosto Ragazzi Peccato che non è tradotto Non che sia complicato Ma ok Ci si può iscrivere Si possono Questo invece si guarda Si può anche iscrivere Le registrazioni sono aperte Ok Eccoli Esibizione pass leggendario Overclock La vetrina overclock Legend unite Parte 2 Con gettoni in palio In esclusiva con il pass Eventi giornalieri Eccolo qua Con il pass Eventi giornalieri Abbiamo questo Evento Che ci da Andiamo a vedere Questi pacchetti Inutili Aspetta Aspetta Guardiamole tutte le macchine Si Inutili Confermiamo 30.000 crediti 60.000 crediti E 20 gettoni Questo non sarebbe male Ogni giorno 20 gettoni 50 gettoni Se fossero Al giorno Questo scade tra 10 ore 50 gettoni al giorno Sarebbero Ok 14 giorni Dura Quindi 700 gettoni Prendi il pass Dell'evento Ok Non ci sono Altri tipi di premi Tipo Classifiche o cosa No Poi abbiamo I bust of speed Ok Questi sono andati a fare La chiave Prova gratuita Tre chiavi Silent S7 Twin Turbo FW Frangimenta Sfaneo Sfaneo McLaren Film E qui abbiamo Caccia all'auto Ferrari G50 Andiamo a vedere Ah c'è già scritto sopra Come prima I ticket Due ticket Per la caccia all'auto Quindi qui Andando a prendere il pass Vedrete Andremo a prendere Tre pacchetti Che diventano Sei pacchetti Avremo un ticket Quindi Quindi diciamo che Non è male Quando c'è un'auto Che Che piace Evento Elite Vediamo quali sono Le auto Ok Non so se sono cambiate Qui c'è un segno Tieni la chiave Ok andiamo indietro Forse quello Quello è l'overclock Non lo so Ah questi sono i classici Che si andavano sempre A ritirare Qui una volta arrivati A livello 12 Si ritirano i premi Pochissime monete di scambio Questi sono comunque Da tenere d'occhio Per fare magari Le missioni In qualche pista Ok Ok O il vecchio weekend Però ho visto Ci sono Ah si Questo è un po' Che l'avevano tolto I 60 aggettoni Settimanali Non male Averlo rimesso E vabbè Quindi adesso Non li vado a vedere Sono ok Questa è prova gratuita Classifica Premi posizione Ci sono dei pacchetti Eccolo qua L'overclock Quindi quello che vedevamo Prima nella film Era proprio L'overclock Si vanno a prendere Tutti questi Overclock Completando Queste missioni Pass Legend Unite Part 2 Ci sono dei Dei token Ok Ah ok Sì sì Questo è il vecchio evento Che si fa con le auto Del pass I burst of speed Adesso Non li vado a vedere E qui dobbiamo avere L'auto a 6 stelle Per avere la chiave Ok Ebbene abbiamo visto I giornalieri E gli eventi speciali Li hanno spostati Di qua Lo showroom L'hanno messo Negli eventi speciali Questo era lo showroom Che stavo facendo 5 giorni Perfetto Poi abbiamo Il Rebels Unite Konings Jackson Absol Termina tra 14 giorni Quindi questo Andrà fatto A palla E Bugatti Chiron Pur Sport Evento Speciale 21 giorni Ok Però è iniziato Dal 14 Ok Sì Vedremo anche questo Se riusciremo Ad andare avanti Il meccanismo Un po' lo stesso Di prima Questo non cambia Questo tra 14 giorni Esatto Sì Questo è un Syndagate Adesso non mi interessa No 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 Voglio uscire Non mi fa andare Non mi fa uscire Ok Passiamo al multigiocatore Ok Forza locale Stanza privata Qui per andare a fare Le gare Con gli amici Partecipa a un match Crea un match Vediamo un po' Se c'è qualcosa Ok Bisogna inserire il match Della gara Perfetto Questo lo faremo Schermo Schermo condiviso Per giocare In casa Questa è la stagione Queste sono Ah ok Multiplayer 1 e 2 E andiamo giusto A vedere un attimo La carriera Che è il continuo Di quella di prima Cambiata un po' La grafica Anche qua Sembra Così a occhio Forse non è stato aggiunto Nulla A me ne mancano Molte da fare Ok andiamo a vedere Quindi dai Questo multigiocatore Vediamo i premi Soprattutto Lega mondiale 2024 Arriva l'estate Round 2 Ah poi è vero Che in questi Ci sono le classifiche Stagionali Le classifiche Tipo Settimanali Mensili Se non ricordo male O se ho capito bene E le classifiche La classifica Anche annuale Comunque Traguardi Cambiato un po' La grafica L'hanno lavorato Molto sulla grafica Vediamo un po' Gold Carta Jolly E i premi Sono abbastanza Comunque Quello che ho detto Sono più 20.000 Invece che 30.000 La Venom Ncf5 Perfetto Non male E ok Che abbiamo già visto Andiamo a vedere I premi finali Guardate sotto Quante Ah ecco Qui In base Alle Ah però C'è da solo Un pacchetto Ok Premi posizione Si parte dai primi 10.000 Primi 5.000 Primi 2.500 Inizia ad essere Buon risultato Perché 35 gettoni Sempre pochi Per me Soprattutto Qui per il primo Che vince solo 150 gettoni Vabbè Non male Comunque Un po' di premi In più La classifica 3.406 Il punteggio Sono molto più alti I punteggi E Ok dai Giochiamola Vediamo Partiamo subito Dal basso Allora Qui possiamo usare Tutte queste auto No Non credo La Nissan Leaf Nismo La usiamo subito Senza potenziarla Siamo in bronzo 4 Ah ecco perché Ci sono varie categorie Nel multiplayer Bronzo 4 Bronzo 3 Bronzo 2 Adesso voglio fare Una piccola prova R Andiamo al filtro Nissan Perfetto Ecco qua La Nissan Andiamo Ok Abbiamo solo due Voglio fare una semplice gara Tolgo il touch drive Andiamo a vedere ragazzi Com'è Ecco ricerca giocatori Vediamo se è più veloce o più lento Grado 826 Sembra rapido Vediamo se ci fa vedere le piattaforme No Perlomeno Al momento Ci fa vedere però Il nome Il Ah ok La posizione No il grado Quello è il grado dell'auto E ci fa vedere Allora vediamo intanto Se accelera in automatico Non siamo andati Nelle impostazioni Ok Solita lentezza Vediamo Vediamo se l'auto parte No Quindi acceleratore automatico Diciamo Non c'è Sembra che vanno Molto La drift Ok Sbarella un po' Il drift Dopo un po' Finisce Ok Non si sa Ok Non c'è rete Diciamo Iniziamo subito male Con un crollo di Linea Rigiochiamo Non mi ha dato punti Né niente Vediamo Il carburante Sì Ok Siamo a 5 minuti Di ricarica Allora Vediamo qui Che altro altro Abbiamo La Volkswagen Ok L'hanno restituita All'anismo Impossibile Connettersi A server Perfetto Ok Ci sono ancora Problemi Niente Il multiplayer Non mi va Vado a fare Allora Andiamo a fare Il syndicate Anzi Faccio Un giornaliero Partiamo Con questi Ok Non ci sono Premi particolari Quindi premi Classifiche Basta Quindi ne facciamo Una Con l'SF90XX Stradale Ok Sì Qui Con quest'auto Si vede Che è Peggiorata La guida Soprattutto Con l'analogico Mentre con le Freccette Va un pochino Meglio Con le Freccette Direzionali Con drifta Allora Con l'analogico Drifta Ok Anche con le Freccette Mamma mia Ragazzi È un po' Strano Il drift Perché Sembra Proprio Lento E sì È diverso Va lasciato Praticamente Prima Beh il nitro È rimasto Uguale Dai Cosa ho preso Che ho frenato In un'auto Dai Vediamo Se siamo Al 75% Mamma mia È molto Diverso Il drift Prima Diciamo Andava Un po' Più Da solo E bisogna Un po' Abituarsi E Più che altro È Come se L'analogico Fosse Sì Esatto È una sorta Di sterzo Quindi Non va Schiacciato Tutto Per curvare In questo caso Sì Mamma mia Lo prendo Ok Il traguardo È brutto Abbastanza Bravo 2 minuti 8 secondi Con un crash 60 punti Ok Abbiamo preso Andiamo a vedere Andiamo a vedere Quanti premi Quanti gettoni Ci dà Ottimo 30.000 Ottimo Sono in posizione 30.000 Sono nei Peggiori 100% No Posizione 303.000 Ok Allora Torniamo indietro Indietro Alla Um Obiettivi Giornalieri Ok Un po' lento Tornare indietro Quanti sono Non si vede Non si vede Ok Perfetto Io Non l'ho visto Non c'è scritto Erano 15 Non ho guardato Il calcolo Dei gettoni E quindi Non ve lo so Dire Magari Che se guardate Il video Vedete Prima quant'erano Devono essere 5 in meno Ok Qui Diciamo che Facciamo abbastanza pena Riproviamo Una gara Poi ragazzi Chiudiamo il video Almeno sappiamo Di essere insieme Agli altri Perché sono in posizione 303.000 E direi È già qualcosa Qui è Curva malissimo Con le levette Sembra un pochino Più fluida Bisogna imparare A usare L'analogico Un po' più Come sterzo Adesso Vedete che fa Adesso Perché mi è rimasto Inquestrato Però Qui la classe Non è acqua Diciamo quindi Abbiamo una guida Abbastanza scattosa Così Con l'analogico Lineare Nooo Più o meno Ok Diciamo che Ah Ero scarso Prima Ora l'auto Non è che si controlli Molto bene Bisogna prenderci un po' La mano Ovviamente Peccato Comunque Che ci sia questo cambio Di giocabilità Mamma mia Di schianti Quasimai Che rimane incastrato Va ripremuto Per toglierlo Ok Per non rimane Per rimanercizato Il E ora Non driftava 2.15 Addirittura Mamma mia Peggiorata Alla stragrande Riproviamo L'ultimo Giusto per Voltage driver Sa che si faccia meglio Sì Grazie La banca Non c'entere Dove Metter Non mostrare Almeno Togliti Ah è gratis E nemmeno Accelera Infatti Quando volvi Invece Con le levette Allora Con l'analogico Non accelera Ok Quindi Probabilmente C'è un problema Mentre Con le frecce Non le levette Praticamente Le frecce direzionali Vedete Che la macchina Va meglio Sì Decisamente Allora Perché Con la leva Con l'analogico In curva La macchina rallenta Mentre Con le frecce Direzionali No Ecco perché Magari Non un tempo Alto Ma Diciamo Forse La posizione Non è proprio Quella Ora Qui Non ricordo Se ho crashato Già Oh Quella Che era Una macchina Della polizia Con quel Dove che sono Al traguardo E vedete Che abbiamo Già migliorato Decisamente Anche se non ho Fatto il crash Però abbiamo Migliorato Ok Perfetto Io direi Ragazzi Di chiudere Qui il video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Mettete un bel Mi piace Guardate Già con 6 secondi Abbiamo Recuperato Quasi 200.000 Posizioni Allora Quindi Chiudiamo Dicendo Guidate Non con l'analogico Ma con Le frecce direzionali Per chi Non è abituato Mi raccomando Ragazzi Mettete un bel Mi piace Questo è un video Lungo Mettete un mi piace Lo stesso Iscrivetevi al canale E ci vediamo presto Con altri video Ciao a tutti Ciao a tutti